... Fred Film Radio, Angela Cerbi, dal Festival di Roma, Alice nelle Città, con un nutrito gruppo di ospiti. Il primo gruppo dei ragazzi, degli attori di Officine Lab, del programma di Officine Artistiche, che sono, allora, Denise Sardisco, Giovanni Cannata, o Cannatà? Cannata? Cannata. Massimiliano Chiazzo? Cagliazzo, scusate, scritto male, Greta Ragusa e Ada Nisticò. Buongiorno a tutti. Allora, voi fate parte di questo programma, diciamo, di ulteriore formazione della vostra carriera come attore. Venite presi, scelti da Officine Artistiche per due anni e ulteriormente formati. Avete già fatto delle esperienze, alcuni di voi hanno già fatto delle esperienze professionali, altri no. Volevo chiedervi qual era la vostra sensazione di queste esperienze, come vi sentite curati, aiutati. Cominciamo da te che sei vicino. Di questa nuova esperienza con Officine? Sì, sì. Beh, possiamo dire di essere all'inizio, quindi per me è una nuova esperienza proprio fresca fresca. E devo dire che sono molto contenta perché ho trovato delle persone umanamente molto disponibili e con le quali mi sono trovata subito a mio agio. E questo credo sia fondamentale nel nostro lavoro e soprattutto quando appunto è una cooperazione ed è, insomma, come dire, c'è bisogno che qualcuno creda in te e soprattutto che tu creda in qualcuno per poter lavorare bene. Bene, esatto. E volevo chiedere, allora adesso passiamo a Greta. È sempre interessante capire come uno sceglie la professione che vuole fare, no? Ognuno fa quello che si sente. E tu perché hai scelto di fare l'attrice? E hai dei modelli di riferimento a cui aspiri? Sì, mio papà fa l'attore e quindi da quando sono piccola ho questa arte in casa e quindi forse è per quello che mi sono appassionata tanto a questo mestiere. E poi ho avuto la fortuna di poter fare esperienza già da molto giovane e quindi penso di aver deciso che questo è il mio lavoro. E avete... Pensate mai a un modello da imitare? Tipo un attore o un'attrice. Un attore o un'attrice, sì. Qualcuno che vi fa, che vi ispira particolarmente a cui vorreste... Mi piace Steve Blanchett. Eh, fai molto bene, devo dire. Sì, mi piace molto lei. E Blue Jasmine, cioè il suo film che mi piace di più, quello di Woody Allen. Senti, Massimiliano, ti farei la stessa domanda che ho fatto a Greta. Sapete, nel senso, sapete che fare l'attore non è una passeggiata, non sarà rose e fiori, però lo scegli comunque e che cosa ti muove, che cosa ti spinge a essere pronto a sopportare tutto quello che dovrai sopportare. Vabbè, sicuramente penso quello sia quasi scontato una grande passione, perché se no sarebbe, secondo me, una follia, no? Senza una passione di fondo, iniziare un percorso del genere. Quello che particolarmente mi piace è quella sensazione di gioco di quando si è in scena. Ho la sensazione di avere, per l'appunto, uno o più persone con cui relazionarsi in scena con i propri personaggi e iniziare a giocare. Prima ne parlavamo anche con Andrea De Sica, no? Seguire un pochino gli impulsi, le sensazioni e giocare con quelli. Per me questo, secondo me, è quello che mi muove, la volontà di fare questo, perché se no, secondo me, sarebbe da folli. E niente, invece per quanto riguarda i modelli a cui mi faccio, amo molto gli attori emergenti, adesso italiani, come Borghi e Marinelli. Mi piace molto il lavoro che loro fanno sui loro personaggi, cercando proprio di viverli fino in fondo. E tra i classici io cito sempre Al Pacino, perché vedo i suoi film da quando ho tipo 12 anni, 13 anni, e quindi insomma viene subito in mente lui. Ti piacciono gli attori di metodo? Sì, gli attori di metodo. Sarà perché sono una persona molto stacanovista, insomma. Però mi piacciono gli attori di metodo, mi piace, capito, mi interessa particolarmente l'approccio di un attore al personaggio. È una cosa che mi interessa molto. Mi interessa molto. Giovanni, buongiorno innanzitutto. Quando uno scegli di fare un attore, secondo te, scegli anche il mezzo dove lo vuoi fare? Cioè uno scegli di fare l'attore del cinema, scegli di fare l'attore del teatro, scegli di fare l'attore e basta? Secondo me scegli di fare l'attore e basta, perché io non, prima ne parlavamo anche lì, non c'è tutta questa differenza tra teatro e cinema, se non per un discorso tecnico, ma puramente vocale o sì, appunto di circostanze, no? Sei al teatro o sei al cinema. Ma come prepari un personaggio, quello che provi e quello che fai è lo stesso. Alla fine, il fatto che molte persone pensano che dover alzare il volume quando sei a teatro o doverlo abbassare al cinema, ha detto terra, terra, sia un limite oppure qualcosa che ti rende finto addirittura, quando la parola è semplicemente qualcosa che può passare in secondo piano rispetto alle emozioni, è quello che realmente fai, ma fai nel senso concretamente, quindi per me non c'è tutta questa differenza tra teatro e cinema. Uno fa l'attore per un altro discorso che è molto più intimo rispetto al vero discorso che poi si intraprende tra teatro e cinema. Quindi secondo te è una questione proprio di scelta di un mestiere che poi si adatta al mezzo in cui lo fai, nel senso quando fai l'attore a teatro devi avere un'impostazione vocale diversa, ci sono delle caratteristiche del lavoro pratiche diverse, però poi l'essenza è la stessa. Assolutamente pratiche, hai detto la cosa giusta, perché prima ne parlavamo, che comunque davanti alla telecamera devi rispettare determinate tecniche, insomma. Perché non puoi muoverti liberamente, però alla fine quello che provi e quello che senti non cambia, cioè non ti limita. Certo. Denise, tocca a te. Ciao. Tu hai appunto sempre più o meno la stessa domanda, perché io sono molto interessato alle motivazioni, nel senso uno sceglie di fare l'attore come sceglie di fare il regista, sceglie di fare il cameraman, adesso, però dal punto di vista artistico è ancora più complicato, perché tu ti devi creare, devi assumere un metodo, delle conoscenze, delle tecniche, però le devi farle diverse da quelle di Giovanni, da quelle di Messimigliano. Assolutamente. E quindi tu eri cosciente della difficoltà, cioè sei cosciente della difficoltà di quello in cui ti stai infilando? Io sono cosciente della difficoltà che abbiamo tutti i giorni, ma ancora di più prima della difficoltà di sposare un progetto, un personaggio, conoscerlo a pieno, farlo diventare tuo e tutto quanto, e dello strumento che deve avere un attore, appunto, perché noi abbiamo come strumento noi stessi, non abbiamo una chitarra, noi siamo il nostro strumento, quindi che bello recitare a teatro, che bello recitare al cinema, che bello usare diverse tecniche per poterlo fare e in modi diversi. Questo senz'altro. Poi, per quanto riguarda la motivazione, io ho scelto di essere libera e ho scelto di non avere abitudini, di non dover fare tutti i giorni il medico, ma farlo magari un giorno per un periodo, imparare il linguaggio di un medico, come può vivere un medico, farlo per un periodo e poi diventare un pianista. Diventare un'altra persona. Sì, sì, qualcosa di diverso. Ci sono delle cose come le abitudini che uccidono proprio l'essere umano, quindi la libertà di vivere liberamente e di scoprire, di essere curiosi, di navigare in questo percorso che abbiamo, bello, che è la vita, e farlo con ciò che ti piace senza avere abitudini. L'amore a primo piano, quindi amare questa cosa, non stancarsi, però non avere abitudini. Sì, come diceva anche Massimiliano, l'amore e passione è una cosa troppo complicata. È quello che devi avere. Se non hai quello, diventa come fare la commessa, anche questo. Si diventa un lavoro meccanico. È un lavoro meccanico, sì, commessa come qualsiasi altro lavoro. Cioè farlo tutti i giorni e sapere che fino a quando morirai o riuscirai ad avere la pensione farai quella cosa, a me fa stare veramente male. Quindi farlo in tutti i modi possibili, ma farlo. No, no, io l'ho fatta. Ci siamo passati tutti da quei mestieri. No, è quello che mi fa capire. Cioè continuare a lavorare, hai la possibilità di capire, voglio fare qualcos'altro, voglio vivere. Mi sembra che siate tutti sufficientemente motivati e coscienti di che cosa succederà d'ora in poi. E quindi Fred Radio vi fa tantissimi auguri in un bocca al lupo enorme. Grazie. A Denis Sardisco, Giovanni Cannata, Greta Ragusa, Adam Mistico e Massimiliano Cagliazzo. Grazie per essere stati con noi. Sono Angela Cerbi per Fred Radio, The Festival Insider.